Buon lunedì e ben ritrovati. Dopo appena sette giornate il campionato parrebbe virtualmente chiuso e questo assunto risulta consolidato dopo la visione della partita già scudetto quella che sarebbe dovuta essere tra Juventus e Napoli. La Juventus non è scesa proprio in campo per i primi 20 minuti, ha concesso un solo gol, ha pareggiato la prima opportunità utile, si è portato in vantaggio alla prima chance d'attacco utile della ripresa, ha approfittato della superiorità numerica, ha chiuso la partita, di fatto l'ha gestita proprio totale ed esclusiva e discrezionale, piacimento e questa sarebbe dovuta essere la partita più impari, l'exus equilibrata del torneo, anche se, mancano 31 partite ancora, anche se si è detto e si conferma il Napoli avrà già sfidato nell'ordine Lazio, Milan, Fiorentina e Torino, a differenza della Juve, ma la sensazione è che la differenza tra valori sia ancora netta e difficilmente compensabile ed ergo colmabile. Ci ho pensato alla Juventus però ad aglietare o meglio a rendere più interessante il post partita con le dichiarazioni di Marotta che con il consueto stile Garbo nutrito sempre nei confronti della stampa prima e dopo tutte le partite, specie nel pre, ha dichiarato e annunciato quella che è la fine di una sua carica e anche evidentemente di un legame con la società bianconera. Non si entra nel merito perché non si accontezza delle motivazioni e quindi sarebbero soltanto congetture e supposizioni tutte valevoli, ma rimane il dato formale in una Juventus che dunque andrà a variare la persona fisica nella carica dell'amministratore delegato. Il resto della giornata ha consegnato un intervincente e anche con buone trame di gioco con un bel gol di Politano anche se sul tiro al volo dopo l'ottima preparazione in palleggio è stata una piccola e non si sa quanto decisiva deviazione del giocatore cagliaritano e duole però vedere alcuni atteggiamenti. De Sena segna con la mano e poi protesta in maniera irata nei confronti dell'arbitro che con una buona dose di clemenza ha semplicemente ammonito il capitano del Cagliari sul fallo di mano, sulla volontarietà del gesto, anche qui possono essere diversi punti di vista. È chiaro che quando si segna toccando come ultima parte del corpo il pallone con la mano. La sensazione è che il gol debba essere comunque annullato indipendentemente dalla volontarietà anche perché il pugno, la mano è stata l'unica parte del corpo con la quale il calciatore del Cagliari ha toccato il pallone. È il nostro modo di vedere, anche se non parliamo di arbitri ma parliamo del gesto tecnico, quel gol non sarebbe dovuto essere convalidato e così evidentemente è accaduto. Se è realizzato il Bologna, ha vinto due gare casalinghe consecutive e la vittoria contro l'Udinese può essere configurata come sorta di scontro diretto, vince la Fiorentina, tra tante polemiche, tra mancata coordinazione tra arbitro e coppia VAR, arbitro di campo e arbitro di monitor, ma anche qui non si entra nel merito, ma indipendentemente dagli episodi è chiaro che la Fiorentina oggi sia una squadra e l'Atalanta ancora non lo sia. La incidenza dell'eliminazione di Copenaghen nel playoff di Europa League e la sua intensità sono ancora oggi non facilmente calcolabili, anche se quello che è un pensiero è che quella uscita forse possa in qualche modo illustrare e motivare questo rendimento, ma non in maniera plausibile e totalitaria spiegarlo, anche perché l'Atalanta sembra praticare un calcio ben al di sotto di quelle che erano le medie, cui Gasperini ci aveva abituato e non passi inosservato anche il grido d'allarme di Gasperini dopo l'eliminazione della vecchia Coppa UEFA quando parlò di una rosa non propriamente all'altezza, diciamo parole premonitrici e che oggi vengono validate da quelli che poi sono i riscontri. La vittoria attesa è quella del Milan, che con fare duro, secco e spigliato ha espugnato il campo dell'ancora terza in classifica Sassuolo, anche qui con Groll di pregiovolissima fattura, con pali, con opportunità a catena e la vittoria ovviamente meritata, respira Gattuso, respira tutto l'ambiente rosso-nero e il Milan adesso. Con questi punti, considerando anche la partita che dovrà recuperare col Genoa, si sta pian piano riposizionando in quelli che sono i ruoli meandri della classifica che sono propri di questa formazione. Mediodempore Empore, tra le partite delle 15 e quella delle 20 e 30, verrà stata la vittoria del Parma contro l'Empoli, scontro tra le promosse, ancora Gervinio protagonista, certo. Parma ed Empoli, a differenza del Frosinone, sembrano detenere organici ben superiori, ma anche puramente osservando due ruoli, diciamo così, Stulaz e Gervinio nel Parma, regista ed attaccante, Capezzi o Rasmussen e Caputo nell'Empoli, parliamo di giocatori da piedi buoni in sede di costruzione e attaccanti di livello in sede di finalizzazione, anche raggiungenti la doppia cifra nelle categorie, nei campionati nei quali hanno preso parte, Frosinone si ritrova con, e con tutto, ovviamente l'osseguoso rispetto, Alfredson, che è un atleta che stabilmente in serie, ma mai ha lottato per posizioni di medio-alta classifica, è una coppia d'attacco, Campbell-Perizza, innovativa nella storia, nella carriera di questi due attaccanti, raramente si è visto il raggiungimento di almeno 10 gol in campionato, anzi, quasi mai accaduto, pertanto risultano soltanto parzialmente di compiacenza e anche di conforto le dichiarazioni del Presidente Stirpe, che intanto ha mandato il ritiro alla squadra a Roma prima dell'anticipo di Torino, ma che si è arrogato, si è assunto tutta la responsabilità dell'attuale andamento della squadra, indipendentemente dalla gestione tecnica, Longo e un bravo allenatore, lo sta facendo vedere anche con questa pochezza tecnica, ma quello che emerge è che il Frosinone come organico, come cifra tecnica, individuale e o collettiva, ceda qualcosa rispetto agli avversari, eppure non chiude la classifica, perché vi ha menù nel Chievo, ma attenzione alla spaccatura che si sta creando tra il Chievo, il Frosinone e le altre, parliamo già di 3-4 punti e non sono pochi per quanto siano trascorse solo 7 giornate. Da domani comincia il turno europeo e oggi ricorrono i 15 anni dall'esordio in Champions League di Ronaldo, che però domani contro Young Boys non vi sarà, per squalifica peraltro quando esordì Ronaldo a dirigere quella partita, fu un italiano. A proposito di italiani è scomparso Mario Castellazzi, 4 giugno 1961, Catania-Inter, calamoroso al Cibbali, tutto il calcio minuto per minuto, Castellazzi fu uno dei marcatori e ci piace ricordare questi personaggi perché era un calcio completamente diverso rispetto a quelle che sono le logiche e le dinamiche odierne. Dinamiche che vertono anche in termini di extracampo di giustizia sportiva, il primo grado di giustizia nel ruolo, nell'ufficio del Tribunale federale nazionale, ha respinto dichiarando inammissibili tutti i ricorsi, per cui Catania, Ternana, Provercelli, Avellino, tutte le formazioni che speravano nella riammissione in Serie B dovranno accontentarsi, così per dire, delle categorie nelle quali sono state relegate. Una conferma evidentemente per il Catania, Provercelli e Ternana dovranno almeno per ora accontentarsi della terza Serie Nazionale. Tutto proprio, è specifico il caso della Virtus Entella, che a differenza delle altre società attende soltanto un provvedimento di reintegra nel campionato di Serie B, ancora non è arrivato, ma prima o poi, per quelle che sono state le determinazioni della Cassazione sportiva, dovrebbe giungere in quel modo la Serie B da 19, ritornerebbe quantomeno con un numero pari e salirebbe a quota 20 squadre. Probabilmente non è finita questa vicenda sportiva, anche se, per come ritenevamo e sostenevamo anche settimana scorsa, più passa il tempo, più è quasi un modo anche per indurre le società ad una forma di rassegnazione rispetto alla categoria nella quale si è inseriti e ad oggi ciò che potranno ottenere eventualmente tutte le società impelagate è un risarcimento, ma non l'avanzamento di carriera, l'avanzamento di categoria. Vedremo, ancora siamo al primo d'ottobre, non tutto è chiaro, però Catania, Ternana, Provercelli hanno in gioco forza dovuto iniziare il proprio torneo di Serie C e ciò che si pensa è che si ricorrerà ancora una volta in appello e poi si arriverà al collegio di garanze del CONI, lì in quella sede che è la massima, cosa accadrà? Perché probabilmente cambieranno le persone fisiche giudicanti, ma la spaccatura di settembre scorso, dell'11 settembre potrebbe rimanere aperta. È un calcio che precipita a livello di credibilità, ma intanto il 22 ottobre, tra 21 giorni, si attendono queste agognate elezioni federali con uno dei candidati che dovrebbe essere il presidente attuale della Serie C, Gravina, la cui politica, nelle intenzioni, nelle idee, può anche ritenersi pionieristica, però nell'attuazione pratica ha trovato non pochi intoppi e non poche difficoltà, basta pensare all'apertura delle seconde squadre, ma ha accettato soltanto una società di Serie A, che è la Juventus, la Juventus Under 23, che milita nel girone A. A domani! Grazie!